Stasera agli olivi di Andria, le ore 20 in campo la partita del cuore, quarta edizione dell'evento di beneficenza che quest'anno raccoglierà fondi aiuti per un progetto di accoglienza residenziale e semi-residenziale per le persone detenute. L'evento è organizzato dalla parrocchia Santa Maria Dolorata alle Croci in collaborazione con l'Associazione Imprenditori Andriesi e con il patrocinio della città di Andria, assessorato allo sport. La gara, che sarà trasmessa in diretta da Teledeon, vedrà coinvolte una rappresentativa di imprenditori andriesi, la nazionale italiana Tori ed una rappresentativa di magistrati Trani Bari. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi aiuti per un progetto di accoglienza residenziale e semi-residenziale per persone detenute nella casa circondariale di Trani, nelle carcere di Puglia e d'Italia, ammessi a programmi alternativi alla carcerazione. Infatti, in una masseria fortificata in Contrada San Vittore, circondata da 10-15 ettari di campagna, nascerà un'impresa multiservizi con il cuore nella lavorazione della terra. Ieri la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Non abbiamo fondi né statali né comunali di nessuno. Dobbiamo spingere perché si possono aprire alcuni laboratori. Questi laboratori permetteranno poi, nella autonomia, di dare impiego di lavoro. Così non solo da tenerli all'interno delle nostre comunità, ma dare lavoro e dare speranza, soprattutto a quelle famiglie che hanno visto veramente la precarietà durante la detenzione dei loro mariti, magari di altri soggetti, dei nuclei familiari, che hanno portato quindi molta sofferenza. Il lavoro dà dignità, ma dà soprattutto speranza. In campo degli imprenditori Andriesi, noi sposiamo il progetto di Don Riccardo, e sicuramente ha una grande valenza sociale. Questo per noi costituisce un mezzo per poter raggiungere il nostro fine, il nostro obiettivo, che è quello di raggiungere lo scopo sociale dell'associazione, che consiste sostanzialmente non solo attività lucrativa dell'impresa, ma anche una dimensione etico-sociale della stessa, che ha una valenza sociale, quindi il recupero, in questo caso, degli ex detenuti, a nostro avviso sicuramente è una grande occasione. È un evento che si rinnova, articolato in diversi modi nel corso degli anni, ma che ha sempre finalità benefiche e, tra l'altro, sensibilizza tante persone che, oltre al momento di gioia e di sport, chiaramente sono tutte impegnate per una finalità importante. Negli anni scorsi si sono anche raccolti fondi importanti distribuiti alle parrocchie. Quest'anno è un'attività benefica destinata al recupero di un progetto importante in favore dei detenuti. attraverso l'elaborazione fatta della progettualità da Don Riccardo Agresti, da Don Vincenzo Giannelli, e che chiaramente va nella direzione di offrire delle opportunità agli ex detenuti di potersi reinserire in un ambito di un contesto sociale del mondo del lavoro in modo da favorire questi percorsi di recupero e riabilitazione, così come prevede il nostro ordinamento e il nostro codice. E credo che tutti quanti debbano dare il loro contributo e credo che ci sia la grande generosità da parte delle andriesi, testimoniate anche da molti imprenditori, che testimoniano non solo con fatti formali, ma anche sostanziali, la loro vicinanza a tutte le attività. Scendere in campo? Sì, penso di scendere in campo e di giocare qualche minuto e dare il mio contributo.